buongiorno a tutti nel video di oggi prendiamo in considerazione cross valutario out new zealand siamo su un time frame a 3 ore e le bande che vediamo qui si riferiscono all'indicatore ichimoku allora stante all'indicatore ichimoku al momento i prezzi trovano su una forte resistenza però se noi andiamo ad analizzare il sentimento di mercato oggi anche legato al fatto che sono usciti dei dati particolarmente negativi per la nuova zelanda abbiamo un new zealand veramente molto molto debole nei confronti di tutti i cross valutari quindi la probabilità che venga rotto a questa resistenza è molto molto elevata quindi in queste situazioni può valer la pena magari mettendo uno stop per esempio in area 107 provare ad entrare nel cross valutario sperando che rompa questa resistenza perché in questo caso qua contrariamente alla mia operatività se noi entriamo anticipando il trend abbiamo un rischio basso ma se verrà rotta la resistenza verrà fatta una grande candela di forza invece in caso contrario se non non dovessimo partecipare venisse rotta la resistenza con buona probabilità perderemo il grande movimento della giornata quindi solitamente non si entra a ridosso di una resistenza ma come in questo caso che sembra che il cross stia per più volte provando a rompere questa resistenza il sentimento della giornata è estremamente positivo siamo inizio mattinata può valere la pena tenuto conto di avere uno stop poco oneroso l'idea di provare ad anticipare il trend scrivetemi sotto come sempre i vostri commenti vediamo nelle prossime ore come va questo cross quindi se sarà in grado di rompere questa resistenza oppure no però ripeto sono trend sono trade da provare perché hanno un potenziale di guadagno molto elevato in relazione a un rischio di stop veramente molto molto basso ci vediamo al prossimo video ragazzi un abbraccio ciao